Mattia, il termine un quarto d'ora è passato dal provare a vincere la partita, poi quel rigore sbagliato da Piccioni, ha la possibilità invece di perderla con l'errore di Olcese. Ci racconti un po', un quarto d'ora di fuoco. Ma diciamo che un rigore così nei minuti di recupero poteva sembrare una beffa anche per l'andamento della partita. Penso che al di là dell'episodio del rigore anche sbagliato da noi, la squadra comunque nell'arco dei 90 minuti abbia cercato di vincere la partita, specie nel secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Però per fortuna penso che sia stato forse uno dei primi episodi di questa stagione che ci è un po' girato bene. A Piccioni cosa avete detto dopo quell'errore? Ma niente, non c'è, non penso non ci sia da dire assolutamente niente, cioè i rigori li sbaglia chi li tira, si dicevano. Lui si è preso questa responsabilità e gliel'abbiamo data a tutti più che volentieri perché era il momento giusto. I rigori si possono sbagliare, però Piccioni al di là del rigore ha fatto un'ottima partita. Sabato c'è un altro impegno complicato sulla carta. A volte vi guardate un po' indietro a quegli avversari magari che sono stati più alla portata e dalle cui gare non sono arrivate magari punti sperati. Fino ad oggi penso che abbiamo fatto forse più punti nelle partite in cui ce lo si poteva aspettare di meno. È un buon segno perché adesso abbiamo altre tre partite difficili da qua a fine dell'anno, quindi se il trend rimane questo vuol dire che porteremo dei punti a casa. Sì, per strada abbiamo lasciato dei punti anche con squadra alla nostra portata, però ormai li abbiamo lasciati, quindi è inutile anche guardarsi indietro. L'esultanza quando hai segnato il gol del pari alla CR7? Ce la spieghi un po'? No, quella era un episodio della sera prima che c'era Juve-Inter ed ero in camera con Zenuni che è tifoso dell'Inter. E tu sei juventino? Io sono juventino e quindi l'ho preso in giro tutta la sera e gli avevo ripromesso che l'avrei fatta anche in altre occasioni, è capitato il giorno dopo, quindi per quello. A che quota vorresti girare dopo Terni? Dopo Terni, quindi fra due partite, siamo a 17 e a 23. Grazie.